Se si vuole fare della poesia un'arte, una propria arte, qualche regolina proprio minima che è la prima cosa è leggere ad alta voce quello che si scrive, possibilmente davanti allo specchio, perché la parte appunto come si diceva, la parte performatica, la parte di voce alta è quella poi che dà il senso delle tue parole, soprattutto la poesia appunto se uno va a leggere in un reading, si assiste tante volte a qualcuno che magari ha una buona poesia però la rovina con un'esposizione maldestra o a fil di voce, invece quello di leggere i propri versi davanti allo specchio è una cosa, prima di tutto ti fa capire subito se c'è qualche cosa che non va a livello di ritmo, a livello di parole, perché uno dei segreti è che 99 su 100 quando le dici ad alta voce una poesia, quando ti incespichi sulla parola è perché quella parola non va bene, a meno per quella poesia, potrai vederlo anche te, è sempre così, e poi secondo è la musicalità, le assonanze, che questa qua è un'altra colonna portante di una poesia, e poi vedere sempre di non parlare di cose forzate, molto spesso c'è una autocensura su quello, nel senso si parla d'amore e magari è influenzato perché tu devi parlare d'amore di una persona in particolare, se no poi hai dei problemi nella tua vita, oppure non so di, stai capendo, oppure parli della tua vita in generale e ci devi mettere comunque dentro per forza delle cose autobiografiche reali, invece bisogna astrarsi perché quando tu scrivi poesia devi essere completamente libero.